Ancora una volta il salotto buono della città si trasforma in uno scenario di degrado. Stamattina l'ennesima aggressione ai vigili urbani impegnati in un'operazione di anti-abusivismo e anti-contraffazione. È accaduto in via Pacini, poco dopo le 10 vicino a Corso Sicilia, le pattuglie che arrivano per il controllo sono tre a bordo, ci sono sette vigili urbani. Scarpe, borse e portafogli contraffatti sono sotto gli occhi degli agenti della nona e sicurezza urbana che stanno per effettuare il sequestro. A circondarli immediatamente sono circa 20 ragazzi di origine senegalese. Inizia così l'aggressione. I vigili hanno riportato contusioni, gli aggressori invece sono riusciti a scappare. A commentare l'accaduto è anche il comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino che ha ricordato anche la carenza di organico da parte della polizia municipale ogni giorno impegnata nel territorio catanese.